I tempi saranno rispettati senza rischi per un finanziamento pesante da 30 milioni di euro. È stata trasmessa la documentazione richiesta dal ministro delle infrastrutture per il programma qualità dell'abitare. Gli uffici del settore sviluppo economico hanno lavorato negli ultimi giorni per completare tutti gli adempimenti con la definizione delle convenzioni. Sono due finanziamenti concessi all'amministrazione comunale per altrettanti progetti di riqualificazione urbana. Sono interessate diverse aree della città. Il cronoprogramma, già stilato e definito con la previsione delle risorse complessive e dei costi, consentirà di organizzare un complesso lavoro preliminare. I due macro progetti saranno gestiti attraverso dei sottoprogetti. Il sindaco Lucio Greco, dopo la recente trasferta romana durante la quale ha avuto diversi confronti ministeriali, ha spiegato che a breve dovrebbe individuare un vero e proprio gruppo di lavoro composto da professionisti esterni. Il vice sindaco Terenziano Di Stefano, che in questi mesi si è occupato, il programma Qualità dell'Abitare continua a seguire l'attività insieme al primo cittadino che vuole monitorare le diverse fasi. Nessuno vuole correre il pericolo di perdere risorse fondamentali. Entro un anno bisognerà chiudere la fase istruttoria delle procedure e la progettazione arrivando alle gare per l'affidamento dei lavori. L'aver definito le convenzioni e i cronoprogrammi consentirà in tempi brevi a Palazzo di Città di ottenere le anticipazioni da circa un milione di euro per consentire la copertura finanziaria di attività come appunto la progettazione. Sia il sindaco che il suo vice guardano al modello agenda urbana che fino ad oggi ha consentito di rispettare i tempi e arrivare a bandire le gare. Probabilmente lo stesso modus operandi verrà attivato per Qualità dell'Abitare. Il termine ultimo per concludere ogni intervento è fissato al marzo del 2026.